buonasera buonasera a tutti benvenuti benvenuti a tutti coloro che si sono collegati sulla nostra piattaforma zoom e anche a tutti coloro che invece ci stanno seguendo in diretta facebook sul nostro canale social quella che vedete alle mie spalle spero che vi arrivi abbastanza limpida sono diciamo un piccolissimo video random del della nostra azienda in malesia insomma così tanto per introdurci nel mondo della dxm allora questa sera vediamo già qualcuno che mi scrive buonasera buonasera a tutti hanno scritto in chat allora questa sera appunto che cosa vedremo insieme ma innanzitutto io sono giuseppe girando per tutti coloro che ancora non mi conoscono sono dal 2014 con la dx in italy e sono il country manager amministratore delegato dell'azienda e quindi della sede della sede italiana che è una delle centinaia di sedi di xn sparse nel mondo allora questa sera io sono collegato dalla mia residenza dalla mia casa e il appunto il bello di questo lavoro che come vedete non si stacca mai la spina diciamo che si sta sempre sul pezzo perché è giusto che sia così ovviamente l'azienda va sempre incontro a quelle che sono le esigenze le disponibilità i tempi dei propri clienti dei propri collaboratori dei propri distributori perché è giusto che sia così questo è un lavoro che in realtà si fa 24 ore su 24 a tutto tondo no un po come si dice quindi è giusto che io come responsabile della filiale italiana prenda del tempo a me stesso alla mia famiglia per parlarvi di qualche cosa che è importante quello che vedremo stasera è uno dei sei moduli istituzionali della dxn di formazione in particolare in particolare entrepreneurship program che appunto riguardano quella formazione fondamentale per tutti i membri per tutti i distributori dipendenti della dxn che ricordo sono il business opportunity meeting la canoterapia la cultura di xn la conoscenza dei prodotti la cultura no la cultura del xn già l'ho detta che cosa mi sono perso canoterapia cultura di xn bomb e quindi la conoscenza del del piano del piano marketing questi sono dei moduli importanti che vengono diffusi in tutto il mondo perché sono sostanzialmente proprio i principi basilari di conoscenza della dxn questa sera appunto andremo a vedere in maniera molto breve perché il piano compensi piano marketing di un'azienda di multilever sempre qualche cosa di molto complesso di molto articolato perché chiaramente deve essere un piano compensi che va a gratificare in maniera corretta in maniera giusta in maniera equa un po tutti colori quali fanno parte di questa rete quindi immaginate voi da il singolo la singola confezione di caffè che voi acquistate da questa singola confezione di caffè che voi acquistate ad esempio di black e di black di il nostro caffè nero poco più di 15 euro questa diciamo questa operazione commerciale dovrà andare a compensare in maniera giusta in maniera equa a tante persone che fanno parte di quella di quella struttura a me piace diciamo qualche cosa che ho letto una volta su uno dei centinaia di migliaia di libri che ho letto sul network marketing o su storie vissute di persone di successo che in realtà ci sono tante persone che prima di iniziare dicono no io mi voglio leggere attentamente tutto il piano marketing per vedere ogni punto per vedere ogni dettaglio per vedere ogni aspetto così in realtà tutto ciò si dimostra poi inutile perché si sta lì a leggere magari una settimana un mese se ne capisce il 10 per cento di quello che c'è scritto mentre magari qualcun altro lo lascia da parte perché tanto dice questo ci pensa l'azienda io mi focalizzo invece sul discorso di duplicarmi mi focalizzo sul discorso di conoscere un pochino di più i prodotti per saper parlare meglio mi focalizzo su tutti i miei nuovi contatti e cerco di costruire la mia rete ecco questo diciamo è quello che un po' a volte accade anzi spesso accade nella realtà no dove ci sono delle persone che iniziano e vanno come treni crescono fanno crescere e implementano la propria rete di clienti di altri distributori invece ci sono quegli altri che stanno ancora lì e si dilettano appunto nella lettura no di questo piano marketing noi diciamo abbiamo trovato un compromesso quindi abbiamo detto partite poi noi siamo qui vi mettiamo a disposizione quelli che sono proprio gli elementi proprio il senso di dire entro nella mia autovettura giro la chiave tocco il volante metto la marcia lascio leggermente la frizione spingo l'acceleratore comincio a partire ecco questo che vedremo questa sera è proprio il fatto che ci serve per metterci sulla strada giusta per non commettere infrazioni e perché soprattutto per raggiungere in pochissimo tempo delle qualifiche molto importanti e soprattutto dei guadagni molto molto importanti allora innanzitutto andiamo a vedere quelli che sono praticamente i vari incentivi no e le varie possibilità di guadagno abbiamo il guadagno che ci viene dalla vendita dei prodotti il bonus di gruppo che va dal 6 al 21 per cento il bonus di gruppo star che va dal 25 al 37 per cento il bonus di sviluppo del 15 per cento la condivisione del 2 per cento il bonus di leadership 15 per cento il 2 per cento di condivisione degli utili dell'azienda l'incentivo in denaro per un viaggio l'incentivo in denaro per acquistare un telefono incentivo per viaggio con seminario ovviamente tutto da che cosa parte parte dal nostro listino prezzi e dai prezzi diciamo che vengono applicati alla dixeni cominciamo a imparare a leggere anche il listino prezzi perché io molte volte lo mando a dei nuovi contatti e mi chiedono ma cosa vuol dire di prp tv allora come vedete nella prima colonna abbiamo il codice del prodotto il codice del prodotto è un codice univoco è un codice che praticamente a livello internazionale identifica il nostro prodotto quindi ad esempio l'hf 002 in tutto il mondo andrà a identificare l'rg 30 che cosa sta per rg 30 rei shigano 30 quindi rei shigano è lo ricordo è il la polvere di ganoderma in capsule ed è il frutto del ganoderma cioè il il fruit body quello che viene chiamato il corpo fruttifero no? Eh poi abbiamo il contenuto quindi questo in questo caso l'hf 002 sono 30 capsule da 270 milligrammi colonna dp quella che interessa a voi perché dp sta per distributor price quindi questi prezzi non sono ovviamente aggiornati questa è una vecchia presentazione che mi ha prestato la solo coccio per il nostro con un ambasciatore quindi eh questi prezzi diciamo sono riferiti a a eh due anni fa tre anni fa oggi diciamo in particolare l'rg 30 per tutti coloro che volessero conoscere il costo costa 14 euro e 40 prezzo distributore quindi distributor price è il prezzo che interessa a voi rp sta per retail price quindi significa prezzo al pubblico prezzo retail eh e quindi è il prezzo che dovreste applicare per quei prodotti che vengono che vi vengono chiesti da persone che non sono interessate a iscriversi in DXN quindi vogliono magari solo un prodotto giustamente prezzo che voi li dovete applicare perché voi dovete guadagnare su quella trattativa perché qui sta il vostro guadagno il vostro guadagno sta appunto nella differenza fra il retail price e il distributor price quindi questo markup questa differenza questo margine rappresenta il vostro guadagno sv è il valore in denaro che viene dato praticamente a questo prodotto cioè nel senso che la DXN su eh in questo caso su eh l'rg 30 vi paga 6 euro e 60 cioè quindi questo è il valore dove poi viene applicato tutte le percentuali del piano compensi cioè il le percentuali del piano compensi che vedremo fra breve non verranno applicate sul distributor price ma ovviamente perché come avevamo detto la DXN ha interesse nel pagare bene tutta la rete tutta la filiera ovviamente applica un un valore diciamo modificato no? Un valore nettato anche perché deve salvaguardare praticamente tutti i suoi costi quindi il valore di pagamento eh che poi verrà fatto sulle percentuali del piano marketing è fatto su 6 euro e 60 cioè questo questo HF002 per la DXN viene valorizzato a 6 euro e 60 PV rappresentano i punti che dà questo prodotto e i punti abbiamo visto che sono molto importanti sono molto importanti perché sostanzialmente vanno a eh farvi aumentare nello status e servono per gli incentivi servono per i viaggi e servono diciamo per tutto eh il resto quindi eh a questo punto come vedete ecco in questo caso abbiamo evidenziato l'HF004 che il ganocelium e ricordo adesso solo una piccola parentesi il ganocelium invece è il micelio quindi sono le radici del eh fungo stesso quindi RG reishi gan al corpo del fungo GL ganocelium micelio quindi radici del fungo stesso quindi sales value ripetiamo ancora una volta è la base del bonus è il valore del prodotto sul quale si calcola il bonus da eh pagare anche qui abbiamo prezzi che non sono aggiornati ma questo diciamo non è importante serve solo come eh fotografia per comprendere come si sviluppa eh il pagamento delle dei bonus il prezzo netto al distributore quindi del ganocelium trenta capsule è tredici euro e novanta sappiamo tutti quanti che il prezzo aggiornato è quattordici e quaranta quindi in questo caso come vedete eh sei euro e ottanta cioè di questi tredici e novanta che voi pagate sei euro e ottanta rimangono in DXN cioè quindi il 43,69% rimangono nelle casse della DXN perché servono per mandare avanti la baracca servono per fare ricerche e sviluppo per eh sviluppare la materia prima insomma per tutto il ciclo di eh produzione di marketing e di quant'altro mentre sette euro e dieci quindi di più quindi il cinquantasei virgola trentuno per cento viene diviso con la rete in funzione diciamo delle posizioni quindi ripetiamo di questi tredici euro e novanta sei euro e ottanta rimangono quindi il quarantatré virgola sessantanove per cento rimane in DXN il cinquantasei virgola trentuno per cento quindi un valore maggiore va a finire praticamente per pagare tutta eh la rete quindi facciamo adesso il caso del eh eh del tre in uno del caffè tre in uno che prendiamo come valore di riferimento quindici euro e quaranta ma sappiamo che il valore è diverso il tre in uno praticamente eh ci eh da undici punti e cinquanta ci viene pagato eh come valore di riferimento sei euro e cinquanta e quindi partendo praticamente ipotizzando che un po' quello che eh ci racconta sempre la DXN che è il metodo più semplice per poter iniziare a guadagnare subito ipotizziamo che noi abbiamo venduto dieci confezioni di caffè non direi che non è assolutamente difficile perché molte volte quando noi ci richiamo in un supermercato vediamo che eh ci sono delle offerte dove ci vendono otto pacchi di caffè da duecentocinquanta grammi no? Tutti insieme quindi immagino che sia anche molto semplice vendere dieci confezioni di caffè sia anche stimolante quindi dieci confezioni di caffè ci danno centoquindici punti volume che sono importanti per noi centoquindici punti volume perché come tutti sapete eh cento punti ci servono per essere qualificati per essere attivi per essere qualificati a ricevere il bonus ci vengono valorizzati a sessantacinque sessantacinque eh euro quindi quanto sarà il mio bonus quando ho venduto dieci confezioni di caffè magari in una settimana magari in un giorno magari in un mese vediamo quanto sarà il mio bonus scusate vado un attimo indietro non vorrei essermi ok quanto sarà allora a questo punto il mio bonus controlla tutti i punti accumulati sul tuo back office dall'inizio poi guarda la tabella punti gruppo e vedrai immediatamente il bonus che ti spetta allora qui faccio apro un attimo una parentesi eh permettetemi per tutti gli amici ehm del Marocco che ce ne sono tantissimi ultimamente stanno dando uno una spinta diciamo alla nostra azienda in maniera incredibile sono veramente molto motivati sono molto interessati sono molto felici diciamo di eh utilizzare i nostri prodotti però molti mh di loro sono giustamente iscritti nel loro paese natale eh e quindi cosa succede che i nostri sistemi eh il sistema della Dixenne il sistema mondiale della Dixenne ragiona per eh aree per aree geografiche molto grandi quindi il Marocco ovviamente fa parte dell'Africa eh l'Italia fa parte invece dell'area europea ad esempio eh l'Indonesia fa parte dell'Asia eh il Perù fa parte dell'America perché vi dico questo perché ovviamente quando voi vi registrate in un paese che non fa parte dell'area geografica eh europea il vostro codice ovviamente vi dà eh l'opportunità e vi dà diritto a eh ad acquistare i prodotti con lo sconto a poter iscrivere a fare tutte le cose che potete fare ma l'unica cosa che non vi consente di fare ad esempio è di entrare nel sistema eh dixenne eh il sistema informatico dixenne per l'Europa potete entrare diciamo in quello per l'Africa ma non in quello per l'Europa e quindi non vi dà la possibilità di accedere al back office e di fare tutta una serie di controlli lo potete fare però nel vostro eh sistema quindi questa diciamo chiudo la parentesi ma era solo un'informazione diciamo eh di una nota di cronaca per far comprendere come a volte magari non riuscite a svolgere determinate cose quindi a questo punto voi potete controllare immediatamente il bonus che vi spetta quindi sopra i cento punti avete diritto al sei per cento se invece avete accumulato trecento punti avete diritto al nove per cento sopra i mille punti il dodici per cento sopra i duemila punti il quindici per cento sopra i tremila duecento punti il diciotto per cento sopra i quattromila e cinquecento punti il ventuno per cento quindi eh se vi ricordate bene i punti della dixenne si accumulano costantemente ed è questo diciamo un po' la chiave di spinta nel nostro piano marketing più punti attraverso gli acquisti personali e attraverso ehm e attraverso gli acquisti del di chi fa parte della vostra rete voi ovviamente salite in eh percentuale quindi se state sopra i cento punti cioè avete fatto solo il vostro acquisto personale avete diritto al sei per cento e quindi sulle dieci confezioni di caffè avete guadagnato tre euro e novanta se invece siete in una posizione intermedia perché avete già accumulato duemila punti siete al quindici per cento e quindi su quelle dieci confezioni di caffè avete guadagnato nove euro e settantacinque se siete sopra sopra i quattromila e cinquecento punti avete diritto al ventuno per cento quindi tredici euro e sessantacinque questo esempio può essere usato se sei interessato al bonus sui tuoi acquisti e non hai raggiunto un livello superiore al ventuno per cento quindi sostanzialmente questa è una situazione praticamente di eh acquisto personale cioè tu quelle dieci confezioni di caffè che abbiamo visto in precedenza te le sei consumate in un mese e quindi su quelle dieci confezioni di caffè tu praticamente andrai a recuperare tredici euro e sessantacinque se sei al ventuno per cento vediamo invece adesso eh appunto l'acquisto personale con i cento quindici pv eh l'acquisto dei membri di quarantasei gpv quindi avrai accumulato perché tu nella tuo status andrai a prendere sempre i punti sui tuoi acquisti personali e sugli acquisti che hanno fatto eh i membri che fanno parte della tua organizzazione le persone che hai sponsorizzato te direttamente o anche indirettamente quindi il pv di ogni acquisto nel tuo network aumenta il tuo livello di carriera riceverà il bonus da ogni gamba indipendentemente dall'ammontare del fatturato non c'è il limite alla quantità di linee e livelli di profondità quindi come vedi questo che cosa ti fa comprendere cosa ci fa comprendere che più è ampia la tua rete più è numerosa la tua rete anche se fa un fatturato eh modesto perché magari ognuno di loro fa 50 40 punti ma sono tantissime le persone che lo fanno comunque questo ti aiuta praticamente a ad aumentare il tuo livello di carriera ma come si fa a calcolare il tuo bonus dai tuoi acquisti personali e da quelli della tua squadra allora si va per differenza imprenditoriale cioè ovviamente come abbiamo detto da un singolo prodotto dal valore di quel singolo prodotto il piano marketing della Dixenne deve accontentare tutta la struttura quindi che cosa succede che io personalmente sono arrivato al 18 per cento perché ho accumulato 3.250 punti vedete quindi ho diritto al 18 per cento che cosa succede però che una mia prima linea che invece si è appena iscritto e ha fatto 100 punti ha diritto al 6 per cento quindi io sull'acquisto di questa persona che ha fatto 115 punti lo vedete che sta al 6 per cento andrò a prendere il 12 per cento cioè la differenza imprenditoriale perché io ho diritto al 18 lui ha diritto al 6 e quindi per tutelare per lasciare a lui il 6 i suoi diritti ormai acquisiti del 6 per cento e a me per garantire quelli del 18 ovviamente mi pagano il 12 sul suo sul suo acquisto eh personale che cosa succede vedete nel primo caso questa persona ha raggiunto ha superato i cento punti cento punti che ricordo sono praticamente il margine minimo per poter essere qualificati e ricevere il bonus ad essere attivi no eh cosa succede che quest'altra mia prima linea eh ha fatto 85 punti eh personali quindi non si è qualificato quindi non ha raggiunto i cento punti non ha diritto al bonus perché per avere diritto al bonus il punteggio minimo personale da raggiungere sono cento punti lui ne ha fatti 85 non ha diritto al bonus e quindi che cosa succede che per l'effetto della compressione dinamica eh ovviamente i soldi non li può trattenere la Dixene che cosa succede che lui non si è qualificato quindi avrò diritto al 18 per cento completo eh perché lui sostanzialmente non è arrivato neanche al 6 per cento va bene quindi eh chiaramente questo è estremamente garantista perché come vedete laddove c'è un mio collaboratore che non si qualifica il bonus non viene perso ma per compressione dinamica viene dato al livello eh al livello eh superiore abbiamo invece qui una persona che praticamente ha accumulato duemila settecentocinquanta punti quindi è al quindici per cento giusto perché ha più di duemila e cinquecento punti quindi in questo caso lui ha diritto al quindici per cento io ho sempre diritto al diciotto per cento prenderò il tre per cento su tutti i suoi acquisti eh personali a quel punto vediamo appunto eh come posso arrivare alla posizione di star agent star agent la raggiungo avendo accumulato quattromila e eh cinquecento punti e a questo punto però scatta un livello diciamo diverso che cosa significa che io come star agente qualificato non avrò più eh non potrò più qualificarmi solo con cento punti ma avrò necessità di avere trecento punti di gruppo eh dei quali cento devono essere personali e duecento devono venire dal mio gruppo fate attenzione perché è molto importante questo perché se non mi qualifico come star agente qualificato e quindi non faccio questi trecento punti complessivi con cento personali e duecento di gruppo non ricevo eh il bonus come star agente qualificato eh come star agente qualificato ma come posso fare trecento punti primo esempio è fare cento punti di acquisti personali e duecento punti di fatturato di gruppo quindi controllare che i miei collaboratori abbiano fatto ognuno di loro cento punti cioè che mi arrivino duecento punti dal mio gruppo il secondo esempio posso fare cento punti di acquisti centocinquanta punti di acquisti personali e centocinquanta punti che mi vengono dal gruppo oppure quello che fanno sostanzialmente tutti quanti per chi perché ovviamente eh hanno compreso come è importante sia fare acquisti personali che come anche eh far conoscere il prodotto si fanno trecento punti personali quindi a quel punto io so perfettamente che sono qualificato che sono attivo e non perdo il mio bonus eh ecco qui abbiamo appunto l'esempio del primo star agente qualificato che sta al ventisette per cento il secondo sta al ventinove per cento con tre arrivo al trentuno eh per cento e quindi divento star rubi cioè per salire di carriera abbiamo visto che per diventare star agente qualificato ho bisogno di accumulare quattromila e cinquecento punti nel tempo ma per raggiungere la posizione di rubino che cosa devo fare mi devo impegnare a far crescere i miei collaboratori quindi a quel punto quando io riesco ad avere tre eh star agente eh nella mia organizzazione che si sono qualificati quindi che hanno fatto anche loro i quattromila e cinquecento punti io raggiungo la posizione di star rubi e passo al trentuno eh per cento di eh percentuale eh su eh tutto il volume che sviluppo io e che sviluppa eh la mia rete vado avanti non mi fermo eh riesco a far qualificare un quarto eh star agente qualificato quindi un quinto e quindi arrivo al trentacinque per cento e qui diciamo che c'è un aspetto molto interessante cioè se io ho quattro star agente qualificati su cinque ma ho duemila punti di gruppo arrivo comunque al trentacinque per cento vedete com'è estremamente eh come ci tutela veramente il piano marketing della vizenne come è meraviglioso cioè non è che ci dice guarda eh se tu non hai raggiunto quella posizione mi dispiace ma io non ti riconosco una percentuale maggiore no mi dice guarda non c'è problema vedo che ti sei impegnato bene perché comunque hai fatto crescere sei star agente qualificati su cinque però c'hai duemila punti di gruppo quindi comunque vedo che tu hai fatto volume hai fatto tanta attività a te il tuo gruppo e quindi ti do il diritto ad avere il trentacinque per cento oppure se nessuno dei cinque star agente qualificati eh si qualifica perché può anche accadere no che tu magari hai uno star agente qualificato che sta a quattromila e quattro l'altro sta a quattromila l'altro sta a tremila e otto quindi sta lì lì però diciamo attività ne hai fatta tanta perché comunque eh portare uno star agente qualificato a raggiungere i quattromila e cinquecento punti significa che tu ti stai impegnando stai lavorando e quindi ti dice guarda non c'è problema se i tuoi tu ne hai cinque di star agente però ancora nessuno si è qualificato però c'hai tremila punti di gruppo hai comunque diritto al bonus del trentacinque per cento direi che è fantastico guardate come in realtà la DXN ci segue ci tutela ci protegge non ci fa perdere i soldi quindi anche se io ho tutte le persone che stanno lì lì per qualificarsi ma ancora non ci sono riusciti la DXN mi dice non ti preoccupare non ti faccio perdere i soldi hai comunque fatto un bel lavoro di gruppo perché hai raggiunto tremila punti eh di eh di gruppo e quindi ti riconosco il trentacinque per cento a quel punto quando hai sei star agente qualificati quindi che hanno raggiunto che hanno superato i quattro mila e cinquecento punti hai diritto al trentasette per cento ma attenzione anche qui altre eh altre altri salvagenti se hai quattro star agente qualificati su sei ma hai almeno due mila e cinquecento punti di gruppo hai diritto al trentasette per cento oppure non hai star agente qualificati ma hai almeno cinquemila punti di gruppo allora hai comunque diritto al bonus del trentasette per cento a quel punto che cosa succede che con sei star agente qualificati oltre ad avere il trentasette per cento di eh commissione hai ti sei qualificato come leader come diamante sei star diamond quindi la posizione è una delle posizioni diciamo più importanti di prestigio della DXN perché ti dà eh diritto a tanti incentivi in più andiamo a vedere adesso il bonus di sviluppo quindi bonus di sviluppo sei uno star agente qualificato hai trecento punti di gruppo di questi trecento punti di gruppo almeno cento ricordati che cento devono essere sempre personali perché il nostro piano marketing è un piano piano marketing serio e lavora sempre sul l'autoconsumo cioè nel senso che è bello che tu fai attività è bello che tu duplichi è bello che tu vedi i prodotti ma alla base di tutto che cosa c'è che se tu ti sei iscritto in DXN è perché ti sei interessato ai prodotti della DXN perché hai ritenuto che i prodotti della DXN siano validi e quindi sei diventato un socio dell'azienda un socio consumatore dell'azienda e quindi come socio consumatore il primo tuo impegno ogni mese è quello di prendere i prodotti per te stesso e per la tua famiglia io non ho visto networker di successo non consumare i prodotti della propria azienda quello è proprio alla base perché quello ti dà la conoscenza del prodotto stesso ti fa diventare prodotto del prodotto e poi ti fa sentire parte della famiglia quindi ricorda sempre che 300 punti di gruppo 100 devono essere sempre di questi 300 100 devono essere personali quindi vediamo adesso appunto il bonus di sviluppo un bonus di sviluppo che cumulativamente ti dà diritto a un 15 per cento quindi tu hai diritto al 5 per cento su un QSA quindi uno star agente qualificato direttamente sponsorizzato da te quindi che sta in prima generazione gerarchicamente no poi hai il 4 per cento che ti viene da una seconda generazione quindi una persona che non è stata direttamente sponsorizzata da te ma è stata sponsorizzata da una tua prima da un tuo primo livello da una tua prima generazione il 3 per il 3 per cento al terzo livello il 2 per cento al quarto livello e l'1 per cento al quinto livello come vedete anche qui per cercare di pagare bene tutti quanti che cosa fa il bonus di sviluppo ti dice guarda io ti do la percentuale più alta sulle persone che tu hai scritto direttamente cioè hai scritto direttamente a te ovviamente più la cosa va in profondità e meno ti pago perché chiaramente dovrò pagare dovrò dare il 5 per cento alla tua seconda generazione perché è giusto che sia così perché chiaramente quella persona l'ha iscritta la tua seconda la tua seconda linea se il primo star agente qualificato si trova in profondità nella tua struttura sarà quello il tuo primo livello questo sempre per compressione dinamica quindi come vedete io al primo livello non ho nessun nessun star agente qualificato al secondo livello non nostro il primo che ce l'ho qualificato al terzo livello e lì mi dà il 5 per cento quindi non è che mi dice siccome sta terzo il quinto il 5 per cento e il 4 per cento si vanno a benedire no lo riconosco come se fosse il primo e ti riconosco il 5 per cento quindi come vedete il piano marketing è sempre diciamo propende sempre a proteggere il distributore a pagarlo sempre al massimo ancora dal terzo il quarto non è qualificato e qualificato al quinto non lo paga come se fosse il secondo direi che è fantastico molto importante se vuoi ricevere il bonus se non hai ancora raggiunto il livello di star agente 4500 punti devi fare almeno 100 punti personale ppv ogni mese sopra il livello di star agente questo vedete noi abbiamo fatto un bel diciamo un bello specchietto perché purtroppo ti ripeto ripeto è una cosa che a volte accade sopra il livello di star agente devi fare 300 punti di gruppo dei quali 100 devono essere sempre personali quei motivi che vi ho spiegato 300 punti personali sono pertanto una perfetta soluzione per non perdere soldi oltre ai punti personali solo il fatturato che proviene dalle linee di star agente non qualificate non qualificate è incluso nel conteggio mensile per questo bonus vi ricordate grazie alla compressione dinamica poi abbiamo l'incentivo cellulare che viene dato a diciamo tre star agente quando io sono rubino quindi devo aver raggiunto la posizione di star rubi ho tre star agente che ognuno di loro ha raggiunto 6.000 pg pv a quel punto ottengo centocinquanta euro di incentivo come cellulare vediamo adesso l'incentivo in denaro per il viaggio devo essere sempre qualificato come star rubi e devo avere cinque linee star rubi che hanno ricevuto l'incentivo per il cellulare quindi come vedete è molto semplice concatenato perché nel momento stesso in cui le mie linee hanno raggiunto loro stesse il primo incentivo io automaticamente prendo questo incentivo fantastico che sono mille euro per fare un viaggio all'estero solitamente questo viaggio si fa in malesia per andare a vedere queste piantagioni che appunto state vedendo alle mie spalle poi abbiamo un due per cento che è un incentivo di viaggio con seminario quello che noi chiamiamo international travel seminar incentive che è un viaggio che si fa una volta all'anno dove ci si qualifica è un viaggio intercontinentale ad esempio il prossimo anno qualcuno di voi già l'avrà visto pubblicato si farà un viaggio in malesia per il trentesimo anniversario della nostra della nostra azienda è un viaggio indimenticabile perché al di là diciamo che si scendono in hotel cinque stelle superior insomma è indimenticabile perché si conosce il presidente tutto il top management si ha la possibilità di incontrare tutti i leader internazionali della dixenne quindi tutti i coronambasciatori che vengono dall'india dall'america latina dall'indonesia insomma dall'europa quindi è un momento di gioia di entusiasmo di motivazione ma anche di crescita professionale e personale il oltre a questo sia anche il due per cento del valore sv del fatturato internazionale per tutti gli star diamond qualificati quindi sia anche diciamo una si entra anche proprio negli utili dell'azienda quindi si entra proprio in partecipazione in questo caso nell'azienda stessa ma come posso diventare star diamond qualificato andiamo a vedere per diventare star diamond qualificato eh il primo step è fare eh 300 pg pv quindi famosi 300 punti che sono sempre 100 personali e 200 che vengono dal gruppo e avere quattro star eh star agent qualificati più 2500 punti eh di gruppo oppure anche qui la dixenne mi dà più possibilità sempre 300 pg pv o non ho neanche uno star agent qualificato ma ho fatto 5000 di gpv quindi 5000 punti di gruppo quindi come vedete eh posso arrivare magari ecco sono degli esempi no posso arrivare a quel mese dove effettivamente ho qualcuno a 4004 ho qualcuno che invece è rimasto al palo così però nonostante questo ho anche tanti clienti sono riuscito diciamo a fare un bel lavoro nella mia rete ho fatto un bel fatturato ho raggiunto 5000 punti di gruppo di gpv e quindi a quel punto mi qualifico come eh star diamond ma come posso essere star diamond qualificato? Ho già le mie diamanti no? Perché può anche accadere che io sono stato bravissimo ho fatto dei eh qualificare degli star agent alcuni di questi sono stati altrettanto bravi e sono diventati diamanti quindi se io ho già dei diamanti nella mia struttura come posso essere eh come posso io eh qualificarmi pure io perché ovviamente se io ho fatto dei diamanti quelli eh mi tirano via chiaramente dei eh dei punti quindi anche qui ho diciamo delle possibilità sempre 300 punti personali e a quel punto mi bastano 4 star agente qualificati più 2500 di gpv ok quindi 4 star agente qualificati come vedete più 2500 di gpv ok ma quindi come posso essere star diamond qualificato se invece non sono eh non ho raggiunto questi 2500 di gpv anche qui un'altra fantastica soluzione del nostro piano dei compensi il sistema prende in prezzito i punti mancanti dalle linee eh qsd quindi star diamond qualificati con il fatturato più basso quindi come vedete quelli che hanno praticamente il eh fatturato più basso nella mia organizzazione si prendono in prestito ok per far sì che io mi possa qualificare quel mese come star diamond qualificato quindi anche qui è un'altra soluzione fantastica meravigliosa e di estrema tutela della DXN che in ogni momento cerca di farti raggiungere di aiutarti a raggiungere l'obiettivo cioè di farti sempre qualificare quindi non ti lascia assolutamente appeso ok non hai raggiunto quella cosa e quindi ricomincia il mese moso no trova sempre tutte le soluzioni per far sì che tutti qualifichi ovviamente questo però non deve diventare un alibi nel senso di dire tanto comunque c'è sempre eh il come dire il salvagente eh dove mi possa aggrappare è importante che ognuno sia focalizzato per raggiungere sempre l'obiettivo nel minor tempo possibile nel modo migliore possibile però laddove possa accadere comunque qualsiasi cosa eh contavo che uno dei miei collaboratori si qualificasse quel mese non ci è riuscito diciamo che sappiamo perfettamente che il mondo non è perfetto e che le incognite e gli ostacoli ci sono sempre quindi la DXN ha pensato anche a questo e ha posto diciamo nel proprio piano marketing dei eh campanelli di allarme delle soluzioni alternative per far sì che le persone non perdano le qualifiche e conseguentemente non perdano il denaro quindi il numero di gambe può essere di viene diminuito di uno ma non perderai i bonus diamanti e i leadership bonus e questo è molto importante questa soluzione però vale solo per i livelli signor star diamond eh a salire il signor star diamond ovviamente è il livello immediatamente successivo allo star diamond e all'executive star diamond perché ovviamente si pensa che già a quel punto una persona ha una bella struttura e quindi sta portando avanti un bel lavoro e ovviamente eh la tutela diventa eh chiaramente maggiore questo ovviamente è il viaggio che vi porterà a raggiungere questo questa posizione che è quella che auspicano tutti quella di crown ambassador con un ambasciatore della DXN noi in Europa abbiamo l'asolo coccio che è una persona squisita adesso si è trasferito negli emirati quindi vedete anche com'è bello e lui ha iniziato così ha iniziato diciamo facendo questo viaggio facendo questo percorso oggi è un leader indiscusso è un milionario ha scelto dove vivere ha scelto come lavorare e con chi lavorare e questo diciamo è una possibilità che la DXN dà a tutti perché ricordatevi sempre che qui si parte praticamente qui veramente si hanno pari veramente questo forse è l'unico posto dove si hanno pari opportunità perché il piano marketing è uguale per tutti i prodotti e i prezzi sono uguali per tutti quindi si parte tutti quanti dallo stesso dalla stessa base eh dalla stessa linea eh siete voi che potete fare la differenza siete voi che potete metterci quel qualcosa in più quella determinazione in più quella perseveranza in più quel fatto di non mollare e di raggiungere un obiettivo e pensare che quello è solo il primo step e che si va avanti che si va avanti finché non si raggiunge appunto questa posizione di corona ambasciatore questa posizione che ti porta veramente ad una libertà finanziaria a una indipendenza finanziaria e a una soluzione eh veramente incredibile ma senza arrivare alla posizione di corona ambasciatore ci sono delle persone anche in Italia anche i nostri leader che hanno avuto grazie alla DXN la possibilità di far studiare i figli di far viaggiare i figli di farli viaggiare e far studiare all'estero e di farli a trovare tutto questo grazie alla DXN ma anche grazie soprattutto al loro credo alla loro determinazione alla loro immaginazione alla loro visione quindi la visione del nostro Presidente accomunata alla vostra visione sicuramente potrà eh determinare un risultato assolutamente senza precedenti a raggiungere un successo veramente incredibile io vi ringrazio per la vostra partecipazione per tutti coloro che non hanno potuto seguire tutto questo webinar o lo vorranno seguire eh successivamente domani sarà questa registrazione sarà visibile nel nostro canale YouTube e DXN Italy e quindi la potrete rivedere quando vorrete eh fate attenzione ai prossimi webinar perché abbiamo per il prossimo mese tante novità in particolare con la nostra Patrizia Barbanti abbiamo studiato una soluzione completa per il nostro benessere e quindi il 7 febbraio vi aspettiamo su questa su questa piattaforma per parlarvi appunto di questa nuova soluzione per il momento è tutto vi auguro un buon proseguimento di serata e eh a presto grazie a tutti